I carabinieri della compagnia Napoli Stella sono eseguendo un'ordinanza cautelare messa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distretto all'antimafia nei confronti di 37 persone riferibili a vario titolo al canabinante operativo nel quartiere napoletano di Scampia. Tra questi destinatari di misura sono anche gli ultimi esponenti di spicco del citato cartello camorristico in libertà fino ad oggi i quali avrebbero speso il nome familiare per affermare la propria forza nel quartiere. Gli indagati sono gravemente indiziate a vero titolo dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Tutti reati aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. L'attività di indagine condotta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella e della stazione di Scampia, diretti e coordinati dalla direzione di stretto l'antimafia di Napoli, ha documentato l'attività del clan abbinante nel quartiere Scampia e in particolare nelle proprie roccaforti del rione Monterosa, Ines e zona della cosiddetta 33. Le investigazioni hanno permesso di rifinire il suo alizio come una struttura operativa stabile, unitaria e verticistica, con ripartizioni di ruoli e compiti funzionali ad assicurare la continuità e sistematicità del traffico di droga, svolto senza soste nelle piazze di spaccio, statiche e dinamiche, quelle con consegne all'acquirente dello stupefacente ordinato telefonicamente. Documentato anche il capillare controllo del territorio all'interno dei rioni, definiti casa nostra, dove tutto doveva passare al baglio del clan per il rispetto della famiglia. Ricostruite diverse estorsioni commesse ai danni di imprenditori ed esercizi commerciali della zona, gli appartenenti al clan avrebbero costretto gli esercizi commerciali presenti all'interno del rione Monterosa a rifornirsi di pane, latticini, buste ed altri prodotti di prima necessità esclusivamente dai fornitori individuati dal clan, a loro volta forzati a corrispondere a una somma di denaro per l'esclusiva in tal modo conseguita. Riscontrati inoltre nella disponibilità della consorteria box auto destinati a magazzino merci presso dall'Izio, dove sono state sequestrate nel corso delle indagini numerose armi e ingenti quantitativi di droga. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in serie di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e destinatari di essa, in quanto persone indagate, sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.